A Villanova l'incontro di formazione per sacerdoti, relatore Padre Renato De Zan, noto biblista e desegeta. Come coinvolgere le famiglie nella catechesi, conclusi i tre incontri di formazione per catechisti organizzati dall'ufficio catechistico diocesano. A Pito in prima linea difesa dei diritti, alla Sala della Pace un convegno sull'attività dell'Associazione Don Paolo Tonucci. Diagnosi prenatale, un percorso complesso tra paure, ignoranza e delirio tecnologico. Al centro pastorale incontro con il professor Giuseppe Noia. Ben trovati a questa edizione del TG Web. Si è tenuto giovedì 6 ottobre a Villanova di Montemaggiore l'incontro di formazione del clero guidato da Padre Renato De Zan, noto biblista e desegeta. I particolari nel servizio di Enrico Papetti. La parola agisce è stato il tema dell'incontro di formazione per sacerdoti svoltosi giovedì 6 ottobre nella parrocchia di Villanova di Montemaggiore. A relazionare è intervenuto padre Renato De Zan, noto biblista e desegeta, che ha proposto alcune riflessioni biblico-spirituali in margine alla verbo undomini. Abbiamo riflettuto insieme su quello che la parola di Dio è, e cioè è azione, agisce, santifica, corrobora, sostiene nella fede e da speranza, ma soprattutto converte. Ora noi abbiamo cercato di prendere questa strada di riflessione obbedendo a quello che Benedetto XVI ci ha detto, e cioè che la parola di Dio è sacramentale, e cioè è operatrice di salvezza in coloro che leggendola sanno come leggerla e soprattutto in coloro che la leggono con fede. Noi potremo sintetizzare così quanto è stato detto. Lunedì 10 ottobre al centro pastorale si è tenuto l'ultimo incontro di formazione per catechisti e operatori pastorali. Tema della serata, come coinvolgere le famiglie nella catechesi. Vediamo il servizio del nostro inviato Matteo Itri. Serve un'alleanza tra comunità e famiglia, alla quale si intende affidare il ruolo di mediare tra questa e le altre proposte educative. Così si è espresso Don Mariano Piccotti, vicario pastorale della diocesi di Iesi, durante l'incontro diocesano di formazione per catechisti dello scorso 10 ottobre. Occorre fare un ponte tra queste due realtà, famiglia e parrocchia, che comunichi sia in un senso che nell'altro, ha proseguito Piccotti. Non è dunque solo la famiglia che deve accogliere la proposta della comunità, ma è anche la parrocchia che deve andare incontro alle famiglie. Sono seguiti poi momenti di confronto con i presenti, favorendo lo scambio e l'analisi di alcune idee già in auge nella nostra diocesi. Non sono mancati nemmeno spunti da Don Mariano, che accompagnato da due catechisti della sua parrocchia, ha illustrato alcune delle tante iniziative da mettere in piedi per coinvolgere i ragazzi assieme alle loro famiglie. Venerdì 7 ottobre, alla Sala della Pace a Fano, si è tenuto il convegno dal titolo Il Brasile cambia bisogni e contraddizioni sociali, organizzato dall'Associazione Paolo Tonucci in collaborazione con il Tavolo Cultura e Immigrazione. Relatrice dell'incontro, la dottoressa Seli Maria De Sousa Silva, assistente sociale per il Comune di Camassari e vicepresidente dell'Apito Brasile. A moderare l'incontro, il dottor Roberto Ansuini, che ha ricordato come l'associazione continua il suo impegno a favore dello sviluppo sociale della realtà brasiliana in un contesto in continua evoluzione, un impegno che si rinnova e guarda avanti, cercando di cooperare con progetti mirati a sostegno dell'educazione e della scolarizzazione. A conclusione del convegno, il dottor Ansuini ha annunciato che nel luglio 2012 si svolgerà il primo memoriale di padre Paolo Tonucci, con l'obiettivo di recuperare la storia e i valori che il missionario fanese ha trasmesso all'intera comunità locale di Camassari. E cambiamo argomento. Un convegno per parlare di diagnosi prenatale. Venerdì 7 ottobre il Centro Pastorale di Ocesano ha ospitato l'incontro dal titolo Diagnosi prenatale, un percorso complesso tra paure, ignoranza e delirio tecnologico. A relazionare sul tema il professor Giuseppe Noia, direttore del Centro Diagnosi di Terapia Fetale e del Policlinico Gemelli di Roma. Noia ha focalizzato la sua attenzione sull'embrione che fin dai primi mesi di vita comunica con la madre e avverte tutti i suoi stati d'animo, a differenza di quanto molte volte si pensi, vista anche l'informazione poco chiara in merito. E ora diamo un'occhiata agli appuntamenti della settimana. Domenica 16 ottobre alle ore 21.15 si terrà a Fossombrone nella Chiesa Cattedrale la seconda edizione della rassegna concertistica Parrocchie in Coro. Lunedì 17 alle ore 21 a Dorciano si terrà la lezione divina del Vescovo a catechisti e operatori pastorali. Vi ricordiamo inoltre che domenica 23 ottobre alle ore 17 nella Concattedrale di Cagli, in occasione della giornata missionaria mondiale, il Vescovo Armando Trasarti invita tutti i catechisti e gli operatori pastorali della Diocesi per il mandato dell'annuncio del Vangelo. Per questa edizione è tutto, l'appuntamento con l'informazione torna giovedì 20 ottobre. Grazie per averci seguito e arrivederci. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.